Turchia-Portogallo termina 0 a 3 ebbene la Turchia perde contro il Portogallo quest'ultimo fa ben 3 gol, un triste gol meraviglioso e fantastico nonché straordinario e il risultato quindi depone totalmente al Portogallo, si sapeva perché perché il Portogallo per esempio è una squadra abbastanza forte rispetto a quella della Turchia chi fa i gol? Vediamo nel dettaglio, sono 3 gol in totale di cui 1 è un autogol il primo arriva grazie a Bernardo Silva, il secondo, scusatemi nel primo tempo è un autogol a firma di Samet Akrain e infine in ultimo nel secondo tempo non sono per questo di minore importanza a firma di Bruno Fernandes le statistiche di questa gara? Vediamo nel dettaglio promuovendo il Portogallo che ha vinto più possesso di vale, più passaggi una previsione dei passaggi indietemente più alta proprio del Portogallo rispetto alla Turchia diciamo quindi anche dal punto di vista statistico il Portogallo gioca meglio rispetto alla Turchia beh, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione il video termina qua iscrivetevi, commentate, una buona serata